ciao amici di youtube siamo adesso in live e stiamo cercando di prendere la c6 di pal dopo tanti mesi di attesa per questo momento oggi è il grande giorno dopo aver anche portato un po di fortuna che vedrete a fine di questo video nelle pool dei sabini oggi sta a me e l'obiettivo non è un obiettivo semplice è una bal c6 però sapete quanto io se mi conoscete anche solo un minimo ami ball e se siete nuovi lo scoprirete probabilmente se verrete appunto anche qua in live per conoscerci meglio comunque per quanto riguarda il resto 50 e 50 sono a pt7 e devo prendermi la mia c6 perché in questo momento siamo con bal c5 la troveremo subito al primo pt senza perdere 50 e 50 io spero però saremo a vedere la speranza è l'ultima a morire comunque restate con noi scopriamolo insieme bene allora tranquilli siamo a pt7 tiriamo le prime tre singole molto tranquillamente per arrivare a pt10 tondo così che almeno dopo tiriamo le nostre multe andiamo a 20 andiamo a 30 così fino ad arrivare in zona soft dove arriveremo alla 74 se non esce prima e tireremo poi appunto la nostra multi quindi pt8 questo è pt9 la prossima pt10 poi tiriamo le multe ok e ultima singola per arrivare proprio in pari pari perfetto siamo a pt10 tondo siamo a pt10 e andiamo a pt20 prima multi nel banner di ball andiamo a pt20 ok 4 stelle ora vediamo cosa è ve l'ho detto armi mi va bene un po tutto perché le armi mancano sempre quattro stelle se fosse non del banner mi piacerebbe appunto una yanfei o una yunjin gli altri li ho tutti c6 quindi anche quelli che usciranno appunto tipo shen yan per me sono delle pull diventano dei distal gritter che potranno sempre di tornami utili nel momento in cui dovrò pullare ad esempio per le costellazioni di casua che non avrò sicuramente tutte queste prime emergenze da parte perché siamo passati da mesi in cui non ho pullato niente l'ultima volta che ho pullato a parte un pochetto ya è stato direttamente shen e quindi mi sono fatta dei grossi momenti di patch in cui non pullavo fondamentalmente nulla quindi lì mi sono ritrovata con meno cose a questo giro non sarà così ok bene pt20 liscio direi che andiamo a pt30 altrettanto liscio pt30 4 stelle dai dammi a caso yanfei o yunjin fammi questo regalo gigante l'ultima sarebbe la c6 di yanfei tra l'altro quindi potrei dire anche ho finito yanfei sarebbe bellissimo la prossima forse il 4 stelle esatto è il 4 stelle che è un favonius warp va bene io ho detto armi sono contenta a prescindere perché le armi si costellano un po peggio pure una sara quindi comunque una multi con doppio 4 stelle buono ci piace sempre la multi con doppio 4 stelle star glitter che ci arrivano in saccoccia sempre utili sempre utili anche perché io le costellazioni di keia lisa e amber o le faccio così o non le faccio con gli star glitter quando ce li mettano io non penso che l'operatore sia qui tra di noi nel caso ci fosse batta un colpo e si faccia avanti comunque andiamo a pt insomma da 30 a pt 40 4 stelle allora vediamo black tassel no no prossimo il 4 stelle non qua troppo presto ok infatti la prossima dovrebbe essere il 4 stelle non ci credo lasci in sé no ragazzi lasci in sé l'unica cosa che potevo volere ragazzi l'unica cosa che potevo volere questo è un segno che l'operatore oh io a ver se mi sta ascoltando l'operatore è sveglio salve signor operatore grazie grazie del segno gli ho detto di fare un segno non gli ho detto mi faccio uscire il 5 stelle gli ho detto mi batta un segno l'operatore c'è l'operatore c'è poi non si paliserà dell'altro perché ha detto ti ho già aiutato vedete questa mi mancava vedete qui sotto mi mancava ti ho già aiutato la volta scorso ho fatto trovare tre balle in 110 pull al tuo amico fede nella tua live oggi basta ma intanto intanto l'operatore ho io a ver se la signorina yanfei ci sei me l'ha fatta portare a casa andiamo piti 40 a piti 50 let's go 4 stelle adesso yunjin grazie se proprio dobbiamo è yunjin gentilmente carinamente yunjin e siamo tutti felici i più felici oserei dire ok sarà va bene va bene va bene grazie per questa sarà 5 stelle gritter e ci siamo va bene va bene ok ok siamo a piti 50 a piti 50 ragazzi ci stavo un attimo ragionando piti 50 andiamo a piti 60 let's go 4 stelle no non c'è l'assicurato c'è il 50 e 50 arriviamo comunque all'assicurato dopo però se riusciamo a non perdere il 50 e 50 sarebbe ovviamente meglio perché le teniamo da parte per i prossimi banner che usciranno tra iato che deve arrivare tornerà forse casua io spero tanto quindi ecco questa è la pool che mi piace ragazzi weed sit felicissimi weed sit felicissima tutte le volte io vedo weed sit sono la persona più contenta di questo mondo ok perfetto quindi multi delle armi multi multi multina delle armi multina delle armi incrociamo le dita che sia quella fortunata vediamo dai andiamo a piti 70 poi tiriamo le singole quindi multi delle armi vediamo multi fortunata piti 70 no ok ok va bene però magari mi dai un gin visto che è la multi fortunata vediamo 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 ok bennet che rimarrà i c5 cioè che continua a darmi costellazioni di bennet che continua a darmi costellazioni di bennet no allora se non è balle preferirei jean ragazzi più di tutti continua per me rimane i c5 dammene questa penso sia la multi che molti di voi vorrebbero allora 71 ognuna potrebbe essere il quadro il 5 stelle io spero di no perché non sono pronta a vederlo uscire però perché no quindi piti 71 ok meno male la donna mi fa un sacco d'ansia quando si arriva a questa io ho veramente l'ansia piti 72 dai resisti altre due singole ti prego resisti altre due singole sì sì ragazzi se si perde il 50 e il 50 io comunque insisto quindi non vi preoccupate bad se ci sei oggi a casa la portiamo ho il sufficiente per portarla ovviamente se non lo perdo sono più contenta però va bene 73 ok e 74 è l'ultima dai ti prego non uscire ora meno male meno male meno male alla 73 74 non voglio mai esca non voglio mai esca perché voglio tirare la multi bel respiro e andiamo con la multi potrebbe essere già la prima la 75 aiuto ok la prossima è la 76 sapete c'è il 20% in più di probabilità di trovarlo quindi andiamo no dai 77 che è la mia 76 no 78 79 oh gesù che ansia oh mio dio il pg ragazzi non ero no no che paura che paura ho detto ma di chi è questa animazione ok la prossima 80 81 81 è l'ultima 82 basta fermi fermi io sto per avere un infarto 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 mancano 83 80 80 85 ora esce 83 jean buono sì buono buono l'unico 5 stelle che non volevo trovare sarà ball va benissimo c1 di jean sì questa sono contenta ragazzi sono contentissima perché tanto io balla la prendo ma la c1 di jean la volevo troppo quindi sono contentissima che tra tutti sia uscita jean renderla veramente rotta quindi questa sono contentissima ragazzi veramente non vi assicuro proprio buono poi non l'avevo più vista ragazzi dal banner di osao non l'avevo più vista jean quindi è bellissimo rivederla ciao jean mi sono dimenticata di farti la foto andiamo ragazzi facciamo multi andiamo di multi tranquilli siamo a pt2 quindi andiamo a pt1 scusate quindi andremo fino a 71 e poi le singole quindi pt1 andiamo a pt11 let's go dammi yonjin eccola lo sapevo io me lo sentivo che usciva subito io lo sapevo non volevo dire niente perché ormai questa cosa sul mio account è scriptata ma io lo sapevo lo sentivo che sarebbe uscita subito ragazzi operatore oiover se mi aveva fatto l'occhiolino 2 3 4 5 6 7 8 9 bal c6 ragazzi bal c6 è arrivata ragazzi bal c6 a casa a casa sono felicissima che dopo tutti i vestimenti d'attesa è arrivato il momento in cui posso con grandissima gioia e piacere alloccare la mia c6 di pal e non sentirmi più incompleta adesso sono finalmente felice e completa e questo esagono è ancora più bello ora sono contenta ragazzi andiamo la prossima potrebbe essere il 5 stelle paurissima paurissima gigante ragazzi paurissima gigante potrebbe essere la prima singola dammi ball ok no questo è l'85 o l'86 tipo madò madò cioè ci rendiamo conto non è nemmeno questa 85 è questa questa è l'85 è normale è normale gioco non dovrebbe esistere il pt sopra l'80 all'ottantesima 82 guarda è già troppo schifo andiamo pt 86 ball no ragazzi stasera è una cosa incredibile stasera è una cosa incredibile è una cosa incredibile almeno ci troviamo questo pensiero via queste due singoline le vogliamo veloci solo per arrivarci almeno vai perfetto anche Fede mi ha detto vai esatto amo se devono farle scriptate le facciano meglio non mi sembra così complicato siiii siiii evviva pt 10 quanto amate genshin impact troppo lo amiamo tanto sente operatore sente operatore sembra quello del centralino però oe troppo ciao amiamo tanto il gioco ecco ale interviene così infinito troppo occhio vabbè se sappiamo Fede troppo ecco queste sono persone che amano tanto guardate guardate i meca aveva detto la cosa più bella che poteva dirvi più di un bello di un troppo è il primo gacha dove scioppo cioè gli avete fatto mettere le mani nel portafogli quindi gentilmente perché queste persone sono così gentili ecco ecco colui per cui sto pullando oppure fa ho fatto pure il cosplay da zongle forza oiovers e con questo io tiro la multi ha fatto il cosplay da zongle lui siiii siiii io non so cosa c'è io non so ma la chiamata ha funzionato la chiamata ha funzionato io non so cosa c'è se è terzo c'è qualsiasi io mi dispiace però ragazzi la chiamata ha funzionato ci stanno ascoltando oh gesù mio ragazzi è questa 47 siiii siiii siii si 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 è in 50 pull due balla a casa allora pt da 33 43 operatore mio oiovers questa è stata la multi in cui mi piace legato delle emozioni replichiamo replichiamo dai no no ragazzi no ragazzi non è vero non è vero non è vero eccola eccola la vostra cici eccola qui la vostra cici eccola 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 Grazie a tutti.